L'Italia è uno dei paesi in cui si è sviluppato meglio la digestione aerobica, specialmente nel settore agricolo. Sono più di 1500 gli impianti che sono stati costruiti e oggi siamo il quarto produttore al mondo di biogas, secondo in Europa, solo dopo la Germania. Quello che però è importante all'interno della digestione aerobica in Italia è la peculiarità del modello, un modello che ha valorizzato le competenze industriali e agricole per far sì che la produzione di biogas accompagni la produzione agricola tradizionale volta alla produzione alimentare di qualità. In questo senso siamo presenti come Consorzio Italiano Biogas e Comondo per ribadire l'importanza di questo modello che è stato in grado di dare maggior forza alle aziende agricole nei settori tradizionali rendendole più competitive, migliorare l'impatto ambientale e generare il nuovo lavoro e il nuovo indotto.